Ciao a tutti da Diego di Tecnophone.it Oggi grazie al negozio online Octilus.it andiamo a vedere che cos'è questo prodotto Innanzitutto come vedete è un prodotto Samsung si tratta di un adattatore MHL per il collegamento alla televisione attraverso la porta HDMI da una parte e la porta micro USB dello smartphone questa versione è la nuova versione 2.0 che supporta il protocollo MHL 2.0 e ha la principale caratteristica che è in grado di funzionare anche senza il caricabatteria perché se magari vi ricordate avevo già fatto una recensione di questo prodotto non questo Samsung come vedete ha qua sul lato l'ingresso per il caricabatterie gli altri smartphone non compatibili con l'MHL 2.0 hanno bisogno obbligatoriamente di un'alimentazione quindi per poterlo utilizzare bisogna per forza avere una presa di corrente vicina o comunque un alimentatore altrimenti non si vede niente sulla televisione mentre con il nuovo standard 2.0 che per il momento lo utilizza solamente il Galaxy S4 è possibile collegare lo smartphone alla televisione semplicemente usando il cavetto nella confezione abbiamo il connettore MHL questo piccolo magnete che va messo nel cavo per evitare delle interferenze e abbiamo una rapida guida sul collegamento che vi faccio vedere come vedete è davvero molto semplice basterà inserire da una parte lo smartphone e dall'altra il cavetto HDMI siete pronti? passiamo adesso alla televisione eccoci arrivati davanti alla televisione come vedete questo è un cavo HDMI che ho collegato alla TV vado a collegare l'adattatore prendo lo smartphone in questo caso il Galaxy S4 e vado ad inserire il jack nella porta micro USB dopo qualche istante avremo l'immagine direttamente nel nostro smartphone come vedete è nel nostro televisore come vedete non ho collegato nessun caricabatterie perché come vi ho detto questo Galaxy S4 supporta il nuovo standard MHL 2.0 la visualizzazione è pressoché istantiana come vedete si muove tutto molto fluido abbiamo la possibilità di guardare le pagine internet magari i technofon in tutta la sua grandezza possiamo visualizzare il video che forse è la cosa diciamo migliore da fare con questo tipo di collegamento facciamo partire un video questo è un video in full HD alziamo un pochino il volume come vedete quando visualizziamo un video nello smartphone viene oscurato perché viene attivata la modalità di visualizzazione sul televisore vi faccio vedere anche velocemente l'esecuzione di un gioco assolutamente la risposta dei comandi è pressoché istantanea possiamo tranquillamente giocare guardando ho fatto come l'ho detto guardando il display della televisione adesso qui mi sono affilato in un bel casino ok adesso vi faccio vedere come esco di qua quindi assolutamente vi consiglio questo accessorio nel frattempo sono schiattato usciamo vi saluto ciao da Diego di Technofon